la moglie è la parente più stretta no però andare a letto con una parente stretta è incesto e quindi è un crimine per cui hai vietato attenzione anche se poi io penso che a volte succeda testa alta così termine ci siamo devo dire che il mio primo omaggio dalle molte signore ecco sorridete mi raccomando dovete far vedere tutti i denti le va di passare da me per un tè e due chiacchiere gentile a invitarmi ma mio marito un virus intestinale ora mi auguro che riesca a meditare fa le valigie e va via e perché chiedo io perché la gente invadente non la sopporto un uomo eccezionale non può che sentirsi solo amore stupidaggine è stato bello ma tra le sofferenze che costelleranno la mia via ce n'è una che emerge e che non si può scordare e sono tutte le donne che troverò sulla mia strada pronte a torturarmi in quanto uomo mi è stato detto che ha bisogno di quieta e riposo signora mia posso chiederle come reagirebbe se io con il dovuto rispetto che le tirassi fuori le tette